Castriò, Dermaco, un vetto ottenne, nato a Scandiano ma di origini albanesi, pronto a stupire Lecce. Arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Parma, con Liberani in giallo-blu, ha collezionato due presenze in Serie A. Prima del trasferimento nel Salento, nove minuti nel derby emiliano, perso 4-1 contro il Bologna, l'intera partita contro il Verona. Risultato finale 1-0, vittoria e porta blindata, un fattore che si è ripetuto nelle due partite con la sua nazionale, l'Albania, nelle due gare che precedono il debut con la casacca giallorossa contro Kazakistan e Lituania in Nation League. Due pareggi per 0-0, insomma, quando c'è Dermaco, i portieri possono star tranquilli. Alto 1 metro e 94, il classe 92 si candida al ruolo di Colosso nella retroguardia di Corini, un difensore per caratteristiche unico nella batteria dei centrali a disposizione del tecnico ex Brescia, che tentenna dinanzi alla possibilità di schierarlo dal primo minuto già venerdì sera. È chiaro però che il suo rientro tardivo complica i piani, impensabile infatti, che possa giocare due partite in tre giorni. Dermaco, un Highlander per il Lecce, che si è già buttato avanti, inserendo una clausola per il riscatto in caso di promozione in Serie A, un investimento a medio-lungo termine.